Buongiorno a tutti, questi sono spazi di dibattito, come avete già visto se avete seguito quelli di ieri e quelli di stamattina, in questo caso abbiamo il tema dell'inflazione, quindi un tema piuttosto sentito dalla collettività su cui ci sono state molte polemiche, un indicatore molto sensibile, insomma sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando, in questo caso la scelta è stata quella di mettere a confronto le posizioni, le domande e le risposte anche di associazione dei consumatori, ci sono due rappresentanti, quindi si tratta di istituzioni molto motivate nell'analisi dell'inflazione, molto reattive ai dati, noi abbiamo un rapporto di collaborazione, io sono l'Istat, sono il direttore centrale di Statistica sui prezzi, abbiamo un rapporto di collaborazione istituzionale, abbiamo avuto un incontro due giorni fa sul paniere del 2011, quindi c'è un clima di collaborazione attiva, però chiaramente il nostro ruolo è quello dei produttori di informazioni, quindi produciamo dei dati con una finalità informativa di un certo tipo, quindi sull'inflazione devo dire che c'è una serie di problemi interpretativi anche, quindi qui tenteremo magari di dare alcune risposte, secondo me, questo è quello che penso personalmente, una volta definiti i rispettivi ruoli, definito la portata informativa degli indicatori, molte delle polemiche si attenuano nel momento in cui c'è un chiarimento proprio sulle posizioni e sulla domanda offerta da informazioni, una serie di polemiche poi tendono a chiudersi, quindi l'incontro di oggi dovrebbe essere un incontro finalizzato a chiarire ulteriormente un po' questi aspetti e il titolo di questa corà fa riferimento a misurazioni statistiche e percezioni. Quindi a questo punto io passerei subito a una fase più introduttiva sui contenuti. Abbiamo il grafico? Ok. Ora, di che cosa stiamo parlando? In realtà anche le percezioni si misurano, questa è una cosa che va assolutamente rimarcata. Questo è un grafico che parte da gennaio del 2000 e arriva fino ad oggi praticamente, in cui abbiamo l'area viola che rappresenta un indicatore delle percezioni di inflazione da parte dei consumatori. Come si fanno questi indicatori? Questi indicatori sono costruiti dalla Commissione europea attraverso dei sondaggi, quindi si tratta proprio di sondaggi, si telefonano alle famiglie e gli si chiede se pensano che l'inflazione sia alta o bassa, senza nessun tipo di quantificazione, non c'è un numero, c'è soltanto una valutazione assolutamente qualitativa. Quell'area sostanzialmente è il saldo tra le persone che pensano che l'inflazione sia alta e quelle che pensano che l'inflazione sia bassa, quindi è un saldo, una differenza. Le linee rappresentano i tassi di inflazione misurati dalla statistica ufficiale, da noi, dall'Istituto e ce ne abbiamo due qui. Uno è il tasso di inflazione ufficiale, che è il blu, quello rosso rappresenta un indice che abbiamo cominciato a calcolare da gennaio del 2008, che è un indice che misura l'inflazione su un paniere più ristretto di prodotti che sono quelli acquistati con maggiore frequenza nelle famiglie. Questo è stato un'innovazione che abbiamo apportato negli ultimi tre anni, proprio in risposta alle pressioni che sono venute anche dai consumatori, che rimarcavano sostanzialmente una divaricazione tra le percezioni ma anche le esperienze, non solo le percezioni, proprio il problema di esperienze quotidiane di acquisto e questa inflazione che sostanzialmente non era corrispondente alle aspettative. Quindi quest'indice, come vedete, si muove di più, comunque è più variabile e amplifica delle fasi di ripresa dell'inflazione che, guarda caso, sono concentrate qui nel momento di ingresso dell'euro, quindi il rosso sta sempre sopra al blu per tutta la fase di ingresso nella moneta unica e poi abbiamo questo picco importantissimo nel 2007-2008 che sostanzialmente corrisponde alla ripresa dell'inflazione energetica ed alimentare. In questo caso c'è stata proprio la somma di due impulsi esterni, prezzi dei cereali e prezzo del petrolio, per cui quell'indice che misura gli acquisti più frequenti è esploso letteralmente perché chiaramente all'interno c'è un peso dei prodotti alimentari, delle bollette, della benzina eccetera eccetera che è molto più ampio rispetto all'indice generale che invece ha dentro pure l'acquisto di automobili, l'istruzione universitaria eccetera eccetera. Quindi secondo noi in questo quadro possiamo rilevare un momento di crisi di fiducia nelle misurazioni ufficiali che è qui sostanzialmente. Effettivamente il momento di ingresso dell'euro ha corrisposto in tutta Europa, ce ne abbiamo altri di grafici ma non li facciamo vedere, in tutta Europa una divaricazione tra gli indicatori di percezione misurati attraverso i sondaggi e gli indicatori ufficiali. Gli indicatori ufficiali sostanzialmente non hanno risentito del change over, quindi l'inflazione misurata in euro non è cambiato in termini di profilo di crescita rispetto a quella misurata dal punto di vista dei consumatori, in realtà c'è stato un gonfiamento che è durato sostanzialmente due anni e mezzo e poi c'è stato un rientro progressivo. Nel momento in cui sostanzialmente c'era una pacificazione diciamo tra la statistica ufficiale e le percezioni di inflazioni c'è stato l'esplosione dell'inflazione. Le aspettative, le percezioni sono ripartite ma come vedete sono state seguite bene da una misurazione ufficiale, quindi l'introduzione di quest'indice ad alta frequenza di acquisto sostanzialmente ha fatto sì che in quella fase, nella nuova fase inflazionistica in pratica non ci fosse una divaricazione tra le percezioni di inflazione e la misurazione ufficiale. Questo secondo me come intervento introduttivo può essere utile per capire sia il fatto che le percezioni hanno una base anche quantitativa di misurazione, non so soltanto articoli di giornali con titoli che rimarcano un andamento dei prezzi fuori controllo e si fa vedere anche che la nostra risposta in termini di produzione statistica ufficiale è stata tale da rendere coerente le percezioni di inflazione dei consumatori con un indice che tra l'altro è stato molto criticato quando è uscito, io mi ricordo insomma abbiamo avuto dei problemi, io ho fatto una trasmissione alla radio in cui ho proprio avuto un alterco con Dario Di Vigo che diceva che quest'indice nuovo creava solo confusione, avrebbe determinato una destabilizzazione addirittura del comportamento degli operatori, in realtà secondo me non è successo nulla, c'è uno strumento di misurazione in più che fa riferimento proprio a come i consumatori vivono l'inflazione, i consumatori vivono l'inflazione rispetto alle esperienze di vita quotidiane, se io nel paniere ci metto l'acquisto delle auto e lo devo inserire che pesa il 3% del paniere, l'acquisto di automobili pesa il 3% esattamente come gli affitti, non c'è modo di riconciliare questo indicatore di inflazione, un indicatore di inflazione che è misurato così, con le esperienze di vita delle famiglie, la gente si compra una macchina ogni 8 anni, l'inflazione misurata sulle auto, nessuno sa che è da un punto di vista delle esperienze quotidiane perché la rivedi dopo 7-8 anni, però incide le misurazioni sui consumi, ci dicono che pesa il 3% esattamente come gli affitti e molto di più di alcuni prodotti alimentari, il fatto di avere ristretto il paniere a dei segmenti di consumo su cui le famiglie sono sensibili da un punto di vista della percezione, come vedete ha riconciliato le due misurazioni. A questo punto direi che forse è il caso di cominciare il dibattito e sentiamo il vostro punto di vista. Buongiorno a tutti, sostituisco più che rappresento indegnamente Paolo Landi che ha avuto altri impegni oggi. E' molto significativa quella slide, anche se la puoi rimettere mi fa una cortesia, guardi, è molto significativa ed è giusta la valutazione che ha fatto il collega dell'Istat, soltanto che secondo me manca un elemento fondamentale che come associazione dei consumatori rileviamo, la rassegnazione che è seguita dopo l'introduzione dell'Euro. Nel momento in cui l'Euro è entrato abbiamo visto tutti, l'abbiamo vissuta, ecco il senso di sfiducia e di percezione molto diversa. Andando avanti negli anni è vero e molto importante quell'indicatore che è stato creato in più, per cui si è anche allineato come range e come divario, però c'è non da trascurare la rassegnazione che c'è stata da parte dei consumatori che hanno visto i beni aumentare con l'introduzione dell'Euro, al di là delle valutazioni economiche che possiamo fare in altra sede. Ma lo stipendio è rimasto esattamente uguale, perché sappiamo tutti quanto costava per esempio un'autovettura nel 2000, media cilindrata, e quanto è schizzata dopo esattamente, il rapporto 1-1 Euro-Lira, anche se il cambio era 1936,27. Per quanto riguarda il paniere, un'altra delle motivazioni di allineamento secondo me personalmente, oltre alla rassegnazione, c'è anche il fatto che se non vado errato, vado a ricordo perché mi hanno detto solo ieri che dovevo venire e quindi non ho avuto il tempo di documentarmi, il paniere negli ultimi anni si è adeguato esattamente ed è stato pulito di quei prodotti che ormai erano desueti e non rientravano più nel vivere quotidiano delle famiglie, quindi si è molto più allineato. Una cosa che mi ha colpito quando ho letto del nuovo paniere 2010 è che mancava, non era una voce specifica che incide molto a nostro avviso sulle famiglie ed è il ticket sul settore della sanità. Chiaro che varia da regione a regione, però se non ricordo male, chiedo allora adesso di correggermi se mi sbaglio, ma io sono rimasto sorpreso allora quando ho visto il nuovo paniere della mancanza di questa voce, c'era solo spese spedaliere con un relativo peso, ma mancava il ticket, il ticket che incide in maniera anche sostanziale devo dire, perché ho sentito persone la settimana scorsa che sono venuti in associazione semplicemente per lamentare proprio, perché alla fine l'associazione è anche un punto di sfogo, che ticket per due persone sono costati 285 euro, nella regione Lazio logicamente sto parlando. Non vorrei fare un discorso più ampio, ma mi ricollega una frase che ho sentito dal dottor Giovannini, che gli indici Istat forniscono alla società la conoscenza di se stessa. Allora, ritengo che il lavoro dell'Istat sia un lavoro estremamente importante, perché può condizionare la nostra società, ma c'è un ma, il ma è legato alla mia precedente esperienza lavorativa, mi sono occupato per anni di sicurezza informatica nelle banche, di auditing e tutto il resto. Non ho sentito, al di là poi degli spunti che ho visto nella sessione precedente di Agora con Barcalore e gli altri, e mi è sembrato di rivivere le mie vecchie esperienze, quando c'è una mancanza di parallelismo tra il cliente dipendente che chiede un'applicazione o un programma o un piccolo qualche cosa, è il programmatore che deve svilupparlo. Quindi è classica una cosa del genere, però la domanda che mi pongo, visto che i dati statistici che vengono generati dall'elaborazione Istat incidono sulla società in maniera veramente sostanziale, che sistemi di sicurezza adotta l'Istat, chi certifica, parlando anche di software, ricollegandomi all'altro, c'è qualcuno che certifica la validità di questo software, sia specialmente se realizzato da società esterne o open source, non è un po' rischiosa una cosa del genere, perché poi questo può portare anche a questi risultati, risultati che se uno fosse critico e non voglio farlo perché ci credo, questi risultati, perché vedo che si avvicinano alla realtà, potrebbe contestarli. Allora facciamo un po' di ping pong, partiamo dall'ultima osservazione di grigliato, caricato. Il software che adoperiamo per calcolare gli indici di prezzi è tutto fatto in casa, quindi siamo tutti noi, sono sviluppatori, analisti e programmatori Istat, quindi su quello non abbiamo dubbi. È ovvio che noi cerchiamo sempre di inserire le maggior parte di informazioni necessarie per seguire la spesa delle famiglie. Il ticket in realtà c'è per l'indice armonizzato, mentre per quanto riguarda la parte nazionale c'è la depurazione dovuta alla parte che lo Stato paga per l'assistenza sanitaria. Sono problemi definitori, non è che ce lo siamo dimenticati. Volevo aggiungere qualche altra cosa sull'informazione statistica che noi diamo. qui abbiamo visto quindi inflazione e percezione. È ovvio che l'Istat dall'inizio del secolo non esisteva ancora Istat, va bene, pubblica dati che riguardano l'inflazione, l'andamento quindi leggermente un aumento dei prezzi. Però stiamo cercando in questi ultimi anni di dare sempre più informazioni su quello che sono i livelli dei prezzi, i prezzi al consumo, quindi come fenomeno. Allora, oltre all'inflazione che noi dobbiamo dare, perché questi dati non dimentichiamo che sono adoperati per fini giuridici, fini legali, fini bancari, cito per esempio l'euro ribor, cito le obbligazioni strutturate, eccetera, eccetera, che vengono collegate agli indici, generalmente quello armonizzato europeo, ma insomma derivano da questi indici, quindi hanno degli aspetti macroeconomici. Oltre a questo qui però, giustamente, l'uomo qualunque come siamo noi, siamo sempre interessati a sapere cosa succede nei prezzi, giornalmente si va a fare la spesa e si verifica, si confronta e così via. Quindi è per questo che noi cerchiamo di dare altre informazioni, quindi oltre a questo indice di cui ha parlato Monducci, che ci fa vedere gli indici dell'inflazione a secondo la frequenza di acquisto di questi beni, e quindi ci fa vedere come quelli che sono acquistati più frequentemente sono quelli che più la gente si ricorda, perché ovvio se tutti i giorni compra il giornale, tutti i giorni compra le sigarette, tutti i giorni deve prendere l'autobus, se lo ricorderà più, se non la macchina perché l'ha comprata qualche anno fa e così via. Quindi ricordiamoci che adesso questo indice che noi italiani abbiamo pubblicato a partire da gennaio 2008 è entrato nella pubblicazione ufficiale dell'Eurostat, quindi l'Eurostat pubblica un indice per frequenze d'acquisto mensile. Poi abbiamo pubblicato qualche anno fa, contiamo quindi di riprendere questo tipo di studio, dei dati che riguardano la dinamica inflazionistica a seconda delle tipologie di famiglie. Quindi abbiamo individuato alcune tipologie chiaramente più deboli, come possono essere i pensionati, le famiglie in affitto e così via, e abbiamo provato a vedere l'inflazione media, che è quella data dall'indice, come si può scorporare per questo tipo di famiglie. Questo chiaramente è un esercizio che può essere ripreso, che può essere amplificato, può andare dal single, può andare allo studente fuorisede e così via. Chiaramente dà delle informazioni su un fenomeno inflazionistico che chiaramente nell'indice è immediato e che in realtà può essere invece qualificato a seconda del tipo di persone che subiscono l'inflazione. Un'altra cosa che abbiamo fatto recentemente è stato quello di pubblicare delle parità del potere di acquisto regionali. Abbiamo fatto quindi dei confronti tra che cosa si può comprare dato un certo budget, può essere 100 euro, 1000 euro e così via, che cosa si può comprare nelle singole regioni. Questo chiaramente è un'informazione sempre per i consumatori che possono confrontare il livello del costo della vita, per esempio dalla Sicilia per arrivare fino a Bolzano. È ovvio che la famosa media ci dice soltanto quanto si muove l'inflazione, quanto aumenta, però in realtà è interessante anche sapere, non solo per il consumatore, ma chiaramente anche per motivi di politica economica e così via, sapere quanto è il costo della vita nelle singole regioni. Un ultimo tentativo che abbiamo fatto per dare più informazione sui consumi è quello sui livelli dei prezzi. Quindi noi pubblichiamo mensilmente per una serie di prodotti, saranno beni e servizi, saranno circa un centinaio, che forniamo al Ministero dello Sviluppo Economico che pubblica poi sul suo sito MappoServa, una serie di livelli dei prezzi. Quindi non come si muovono, ma quanto costa il chilo di pane, quanto costa il zucchero, quanto costa il barbiere. Quindi beni e servizi e questo esercizio che noi stiamo facendo a livello nazionale ormai da diversi anni verrà implementato ancora di più a livello europeo, perché a livello europeo si vuol vedere proprio su questi beni e servizi e chiaramente devono essere confrontabili tra di loro. È ovvio perché se noi, per esempio, in Italia la tazzina di caffè è normalmente la tazzina in piedi, in Svezia sarà diverso. Quindi è ovvio che ci sarà bisogno di omogenizzazione. Però è un'informazione che qualifica ancora di più l'andamento del fenomeno prezzi al consumo, quindi a livello sia territoriale che a livello anche nazionale. Buongiorno, io sono Marco Bulfon, sono di alto consumo e mi occupo in alto consumo delle analisi di prezzo. Facciamo indagini sui livelli dei prezzi, sui livelli delle tariffe e quindi ci occupiamo specificatamente proprio del tema che stiamo trattando oggi. Io vorrei partire un pochino dall'ABC in verità, per cercare di inquadrare un pochino le questioni che sono sul tappeto, che non vorrei che fossero, se desse per scontato ciò che in verità forse non è. Dunque, l'Istat calcola mensilmente un indice sui prezzi al consumo. Sulla base di questo indice si fa una misura, si dice, dell'inflazione. Ma che cos'è l'inflazione? L'inflazione in verità non è un indicatore del movimento dei prezzi, il movimento dei prezzi sono una conseguenza. L'inflazione in verità è un'entità monetaria, indica la perdita di potere d'acquisto da parte della moneta. Questo è un punto centrale perché permette di capire perché poi si scatenano certe discussioni. La misura dell'indice Istat sui prezzi nacque da un'esigenza monetaria, nacque alla fine dell'Ottocento perché gli stati avevano capito che il comportamento dei prezzi non era semplicemente provocato dal rapporto tra domanda e offerta, come tipicamente si dice, ma era anche determinato dalla quantità di moneta che veniva immessa sul mercato. E siccome la quantità di moneta veniva stabilita dagli stati, gli stati avevano bisogno di sapere come si comportavano i prezzi e se per caso non avessero bisogno di gestire la propria politica monetaria in un modo o in un altro. fu per questo che nacque l'indice dei prezzi e nacquero i tassi di inflazione. I tassi di inflazione e gli indici dei prezzi hanno come scopo quello di verificare se la moneta sta perdendo troppo valore o ne sta acquistando al contrario troppo, questo accade piuttosto raramente e lo fa cercando di vedere come si comportano i prezzi in generale. Quindi tendenzialmente quello che vuole verificare è se i singoli prezzi dei singoli prodotti e poi facendo la verifica a livello generale si stanno comportando in maniera anomala. Perché dico che poi sulla base di questo si scatenano le discussioni? Perché un conto è dire io voglio vedere se la moneta sta perdendo valore, è un conto è dire io voglio capire se i prezzi si stanno comportando in una maniera tale per cui io non riesco più a comprare quello che compravo prima. Sono due problemi piuttosto diversi, uno è incentrato sul tema dei prezzi dei prodotti, l'altro è incentrato sul problema della mia capacità di spesa, problema sul quale incide anche non solo quanto pago quello che acquisto ma anche quanto ne compro, che è un problema che quando si misura l'inflazione incide di meno. Questa era una prima premessa, questa è una questione che è spesso motivo di grande discussione con l'Istat e più in generale anche a livello di stampa si fa spesso confusione su questo. Ora vorrei parlare invece delle associazioni di consumatori e di che cosa in genere cercano sul tema dei prezzi. Allora le associazioni di consumatori io parto dal presupposto che non siano molto conosciute, nel senso che solitamente quando si fanno dei sondaggi o delle indagini su questo tipo di temi emerge che neanche il 10% delle persone in Italia sa citare il nome di un'associazione di consumatori. Allora le associazioni di consumatori si pongono come obiettivo quello di difendere gli interessi dei consumatori naturalmente e come lo fanno? Si pongono tre temi sostanzialmente, uno è quello di verificare la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi che sono proposti sul mercato, in secondo luogo si pongono il problema della correttezza contrattuale e giuridica delle condizioni alle quali i prodotti vengono e i servizi vengono proposti sul mercato e in terzo luogo si pongono il problema dei prezzi. Questa è la ragione per la quale le associazioni di consumatori hanno il mirino puntato sull'indice dei prezzi al consumo perché i prezzi costituiscono uno dei pilastri delle loro attività. Perché si occupano l'associazione di consumatori dei prezzi? Se ne occupano sostanzialmente per due ragioni. La prima questione è che ci si pone il problema che i problemi, i prezzi che sono praticati sul mercato siano giusti, tra virgolette. Cioè che cosa vuol dire? Significa che in un mercato concorrenziale questi prezzi dovrebbero essere il frutto di un rapporto tra domanda e offerta. I prezzi sono il primo sintomo che ci avverte quando si sta verificando qualcosa di anomalo sul mercato per cui sta venendo meno quella concorrenza che dovrebbe generare i prezzi tra virgolette giusti. Ecco perché noi siamo così interessati a sapere come si comportano i prezzi. Perché se si verificano delle anomalie sul mercato, viene meno la concorrenza che produce quei prezzi giusti, allora a quel punto i primi che ci smenano qualcosa sono i consumatori, sparato. E quindi è nostro interesse verificare questo. La seconda questione per noi è verificare come la dinamica dei prezzi incide sulla capacità di spesa delle famiglie. E guardate che su questo punto gli unici che veramente si occupano di questo tema sono proprio le associazioni di consumatori. E quindi anche per questo noi siamo molto sensibili al tema dei prezzi. Allora, e vado a concludere, che cosa chiedono le associazioni di consumatori? Che cosa cercano nelle statistiche sui prezzi? cercano da una parte di poter conoscere qual è l'evoluzione e il comportamento dei prezzi da tre punti di vista. Da una parte avendo un'informazione che sia il più possibile dettagliata per tipologia di prezzo. Perché quello che a noi interessa è sapere come si rivolgono i prezzi non semplicemente a livello generale ma per settore. In secondo luogo vogliamo se possibile sapere come si comportano i prezzi a livello territoriale, cioè quali sono le differenze a livello territoriale e poi quali sono le differenze nel tempo e quindi la dinamica dei prezzi nel tempo. In secondo luogo noi avvertiamo enormemente l'esigenza di sapere come l'evoluzione dei prezzi incide sulla capacità di spesa delle famiglie e questo significa che noi avremmo bisogno in qualche maniera che la misura dei prezzi sia non solo finalizzata all'inflazione, come si diceva prima, ma sia anche in qualche modo capace di fornire un indice che oltre a essere indice dei prezzi sia anche un indice di spesa che è una cosina un po' diversa e che è il cuore delle molteplici discussioni che spesso si verificano tra associazioni di consumatori e Istat. Concludo dicendo che molte delle esigenze che noi esprimiamo non sono semplicemente le esigenze espresse dalle associazioni di consumatori, sono esigenze che molto spesso vengono anche a livello europeo, infatti molto spesso alcuni degli interventi che lì è stato fatto in questi anni, da una parte li ha fatti perché è in condizione di farli e avverte delle esigenze, ma anche perché sempre di più a livello europeo ci si chiede qual è il livello di concorrenza dei mercati, quali sono gli impatti delle evoluzioni dei prezzi sui consumatori e quindi ci si pongono sostanzialmente quelle questioni che noi stessi ci poniamo. Diciamo che parto dall'ultimo aspetto, domanda e offerta, per quanto riguarda il livello di dettaglio, un minuto soltanto per ripercorrere un po' le innovazioni che lì è stata fatta negli ultimi anni in funzione proprio della domanda di informazioni, da un punto di vista del dettaglio dei dati, noi sostanzialmente diamo dati a un livello pazzesco di dettaglio di settore, qualcuno direbbe che esageriamo da un punto di vista della relazione tra indici elementari e possibilità poi di diffondere i dati, io penso che no perché il nostro sistema di rilevazione è molto robusto e quindi la valutazione è stata quella di dare il massimo di informazione possibile dati vincoli di qualità, però il nostro livello di output è elevatissimo se confrontato ad altri paesi europei, a maggior ragione sul territorio, il grado di dettaglio territoriale dei dati ISTAT sull'inflazione è enorme, nessun paese al mondo pubblica dati a questo livello, se aprite il sito avete i dati su 80 città italiane e arrivate a livelli potenzialmente di 200 prodotti, quindi la matrice merci e territorio è di dimensioni elevatissime. In più noi abbiamo fatto da una serie di anni un'operazione, anche in questo caso da un punto di vista della comunicazione è stata un'esperienza innovativa e all'inizio eravamo anche un po' perplessi e frastornati, però io ci ho creduto fin dall'inizio anche se ci siamo esposti a dei rischi. Quando escono i dati sull'inflazione l'Istituto Nazionale di Estatistica produce una nota di analisi dell'inflazione, nell'esperienza vista questa è una cosa anomala, quando noi diamo gli indicatori congiunturali, produzione industriale, fatturato, eccetera, eccetera, c'è un'illustrazione dei dati, ma non c'è mai uno sforzo analitico così in profondità per vedere il fenomeno sotto l'aspetto merceologico, territoriale, le sincronizzazioni dei prezzi, insomma ci sono tutta una serie di indicatori che servono proprio a capire che succede, cioè magari l'inflazione è ripartita ma è trainata da componenti che per esempio ai consumatori sono ripartiti i durevoli, beni durevoli, acquisto di mezzi di trasporto, un conto che se l'inflazione mi riparte sui durevoli è un conto che mi riparte sulla pasta, gli affitti, eccetera, eccetera, quindi ogni mese stamattina sono usciti i dati e voi trovate un impianto analitico piuttosto complicato che anche Euro è stato apprezzato e tra l'altro adesso abbiamo un incontro a gennaio proprio per sincronizzare una serie di approcci di comunicazione. Questo è un aspetto che secondo me va rimarcato perché quello che stiamo facendo in pratica è da una serie di anni appunto è quello di rispettare il mandato istituzionale assegnato all'Istat per quanto riguarda il calcolo dell'inflazione, è una cosa molto seria, abbiamo la moneta unica, la BCE vigila in maniera feroce sui prezzi, quindi è ipersensibile, la politica monetaria europea è ipersensibile all'andamento dei prezzi relativi tra i paesi, quindi c'è un atteggiamento molto accorto, tra l'altro i dati escono lo stesso giorno e la stessa ora in Italia, a Milano, a Palermo e a Lussemburgo, quindi c'è proprio una tendenza alla sincronizzazione, però quello che abbiamo fatto noi è questo, rispettando questo vincolo, quindi tutti i requisiti di qualità di un indicatore macroeconomico di misura curale dell'inflazione abbiamo forzato al massimo la fruibilità di tutto l'apparato informativo che abbiamo in campo per calcolarlo. L'Italia è zeppa di osservatori provinciali in cui c'è, come diceva Politi, il prezzo delle mele a Piacenza, dati Istat, cioè il dato che viene rilevato viene poi riciclato, se così mi posso esprimere, in termini di informazioni puntuali ai consumatori, questo serve solo ai consumatori, a noi ci crea soltanto problemi perché chiaramente implica un livello di qualità sul dato di base pazzesco, noi abbiamo 5 milioni di quotazioni all'anno che praticamente vanno controllate una per una perché a Piacenza l'arrivazione si fa su 8 negozi di frutta e noi pubblichiamo la media degli 8 negozi di frutta, quindi questo vorrei che fosse evidente perché altrimenti creiamo una situazione un po' di non comprensione, qui stiamo per chiarirci, se voi andate in Germania in inglese, queste cose non le trovate, è sicuro, i colleghi degli strumenti nazionali statistiche europei sono assolutamente attoniti quando gli facciamo vedere il grado di informazione che rilasciamo a partire da questa rilevazione, quindi questo è un aspetto che secondo me va rimarcato, poi chiaramente ci può essere un problema di nostra incapacità di comunicare, cioè magari la nota dell'analisi è troppo difficile, ci sono indicatori, su questo magari ci lavoriamo, però devo dire che più di questo da un punto di vista proprio della differenziazione dei prodotti sulla base dei dati raccolti è difficile che si può fare, quindi questo è un primo aspetto, il secondo aspetto è che sostanzialmente, quello che dicevi, oltre all'informazione per i consumatori si è aperto un fronte di analisi dei mercati diciamo in Europa e quindi queste esperienze vengono scalate a livello sovranazionale, questo è importante perché chiaramente implica che il nostro approccio è stato lungimirante, cioè l'intuizione che con i dati comunque rilevati per calcolare degli indicatori noi potevamo arricchire ulteriormente l'informazione sul sistema economico, a questo punto ci si sta creando secondo me una cosa piuttosto interessante che è un livello di coerenza strategica tra esigenze della statistica, esigenze delle istituzioni che fanno politica monetaria, esigenze della Commissione europea di vigilanza sul funzionamento dei mercati e esigenze dell'associazione dei consumatori che vogliono riuscire a capire appunto come si diceva se ci sono delle anomalie nel funzionamento del mercato, se su prodotti omogenei noi abbiamo dei differenziali assolutamente irragionevoli. Su questo e chiudo, devo dire che poi questa nostra attività di informazione è stata poi utilizzata, non direttamente ma indirettamente in ogni caso, per vigilare sull'andamento dei prezzi in Italia, cioè la banca dati dell'osservatorio dei prezzi è una banca dati sulla quale sono state aperte istruttorie, cioè quindi è un'informazione che noi forniamo ma che attiva iniziative, mister prezzi e altre cose di questo tipo, che hanno portato in alcune fasi in Italia a poi dei provvedimenti in favore dei consumatori, cioè la statistica ha messo in condizione le autorità di vigilanza del mercato di attivare delle iniziative, delle indagini sostanzialmente che non è che si fermano al dato, cioè il dato è l'input, è l'impulso, poi l'istruttore va avanti e deve essere verificata in termini giuridicamente rigorosi, non è che tu fai la multa a Telecom o non so chi perché l'Istat ha rilevato, però insomma come spunto è stato importante, ricordo per esempio, e chiudo, tre anni fa quando c'è stata appunto l'impennata dei prezzi degli alimentari, si sono attivate tutta una serie di iniziative, non so se vi ricordate i panettieri, i produttori di farina, ognuno rimandava a monte della filiera, era sempre colpa di quello che stava prima che traslava sui prezzi oneri aggiuntivi, ecco in quel caso non abbiamo fatto alcuna operazione di monitoraggio della filiera che ha portato poi a verificare per esempio che alcune illusioni ottiche che ci avevamo, per esempio il prezzo del pane sta aumentando più a Napoli in termini percentuali, a Milano aumenta del 15% a Napoli aumenta del 28%, noi non mandiamo nessuno ovviamente, di dovere, mandiamo i finanziari a Napoli, no, li devi mandare a Milano perché se lo shock è da prezzo dell'input e a Milano il prezzo è doppio rispetto a Napoli perché incidono i costi dei servizi eccetera eccetera, se la farina mi aumenta di 3 euro a quintale praticamente incide molto di più sul prezzo finale a Napoli rispetto a Milano, quindi alla fine è vero che a Napoli l'inflazione sta aumentando ma da un punto di vista del funzionamento del mercato chi sta diciamo facendo un'operazione scorretta è il panettiere di Milano perché noi siamo in grado di valutare sia la crescita dei prezzi sia il livello dei prezzi e quindi diciamo c'è un apparato informativo che può consentire anche questo tipo di iniziative. Chiaramente non è che l'Istat è in primo piano nella vigilanza sui livelli o la dinamica dei prezzi, però devo dire che il nostro apparato informativo è servito anche a fare operazioni di questo tipo. Dunque io non vorrei che si desse l'impressione che le associazioni di consumatori stanno combattendo una battaglia con l'Istat, non è assolutamente così, al contrario quello che abbiamo appena sentito è qualcosa che noi abbiamo estremamente apprezzato in questi anni, è fuori discussione che l'Istat sta facendo da diversi anni un enorme sforzo per venire incontro alle richieste non soltanto dell'associazione di consumatori ma di vari istituti che chiedono che venga pubblicato un dato più particolareggiato possibile ed è un fatto oggettivo che lo sforzo che viene fatto dall'Istat è veramente incommiabile. Vorrei soffermarmi un pochino sull'esempio che è stato citato prima sulla questione dell'evoluzione dei prezzi del 2007 perché è un caso che secondo me è veramente molto interessante. Allora nel 2007 succede che a luglio improvvisamente il prezzo dei cereali, il prezzo della materia prima dei cereali a livello internazionale aumenta del 500-600%. Nel giro di due mesi già si avvertivano elementi inflazionistici sui prezzi del pane, sui prezzi della pasta, su tutta una serie di prodotti e in verità in quell'occasione i dati dell'Istat sono stati particolarmente significativi perché fu possibile dimostrare che è vero che i prezzi stavano crescendo e stavano crescendo in conseguenza di quello che era accaduto a livello internazionale ma stavano crescendo in maniera estremamente anomala perché se era vero che i prezzi erano cresciuti improvvisamente nel giro di pochi mesi, nel giro di altrettanti mesi i prezzi della materia prima erano ritornati addirittura al di sotto dei livelli che avevano prima della crisi di luglio 2007. Eppure i prezzi della pasta hanno continuato a crescere tant'è che l'inflazione arrivò al 4% dopo un anno e il livello di prezzo della pasta è sempre rimasto lì. Però proprio grazie ai dati dell'inflazione, ai dati che risultavano sull'andamento dei prezzi internazionali invece delle materie prime, proprio l'altro consumo con altre associazioni di consumatori fece una segnalazione all'autorità antitrust e l'autorità antitrust fece una serie di indagini e alla fine tutti i produttori di pasta furono condannati con multe milionarie per aver costituito un cartello. E se avete voglia e volete prendere la briga la delibera dell'autorità antitrust con la quale commina la multa è veramente meriterebbe di essere letta perché vengono riportati i dettagli delle riunioni che i produttori di pasta avevano fatto in quel periodo con tutto quello che si dicevano, con dei virgolettati che sono davvero illuminanti. Tutto questo semplicemente per dire che i dati dell'Istat quando consentono di verificare il comportamento anomalo dei prezzi su singoli settori ci consentono di fare delle osservazioni e di fare degli interventi che in questo caso hanno portato ai risultati che vi ho appena descritto. Confermo quanto ha detto il collega di Altro Consumo e volevo far vedere la similitudine, ve ne sarete resi conto da soli, tra il comportamento che è stato fatto dai produttori di pasta nel 2007 con quello che avviene normalmente con l'aumento del prezzo della benzina. Molto probabilmente hanno usato la stessa tecnica, gli acquisti vengono fatti oggi e oggi la produzione utilizza gli acquisti fatti sei mesi prima, quindi era del tutto l'indagine fatta dall'Istat, i dati Istat per la pasta sono serviti effettivamente perché hanno consentito di smascherare questo lasso di tempo al di là poi del verbale con i virgolettati che venivano fuori, che è un'ulteriore conferma. Peccato che purtroppo a volte lo sforzo che fa l'Istat sulle indagini di mercato, sulle ricognizioni dei prezzi e raccogliere milioni di dati non portano poi al risultato che i consumatori si aspettano quello che effettivamente è di portare una riduzione dei prezzi di alcuni prodotti. Ecco, forse non è il compito delle associazioni consumatorie né dell'Istat, ma se qualcuno desse poteri sanzionatori all'Istat forse si otterrebbero certi risultati più immediati. Spero di no. In realtà ce le abbiamo, se non ci rispondono vi possiamo fare una multa, ma se non ci rispondono? Lei dice se ci rispondono. Non so se c'è il tempo per dibattito, io volevo trarre qualche conclusione, non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda prima. Ho voluto seguire il lavoro vostro, soprattutto perché siete i più esposti all'accusa di demagogia, in quanto avete bisogno di un seguito per avere successo. D'altra parte, devo dirvi che pochi minuti fa, quarto d'ora fa, alla presentazione del progetto di newsletter, ho invitato gli editori della newsletter a inserire anche una rubrica sulle bufale statistiche che vengono pubblicate e che debbono essere rettificate e ho timore e credo sia anche un timore fondato che le vostre associazioni saranno fra le più esposte a queste critiche di bufale, perché la tentazione di dimostrare le vostre tesi è più forte da voi che altrove, in quanto avete bisogno di un seguito per poter sopravvivere, avere successo sviluppato. Ho preso la parola, non per cercarvi di dire non scrivete bufale perché sarete più sanzionati di prima, questo è intuitivo, ma anche perché rischiano le statistiche di essere annegate dalla loro quantità. Oggi tirar fuori i dati statistici, serie statistiche che ci servono perché tante associazioni, e non solo voi, fanno delle statistiche e dai risultati dicono sì, questa sia utile per quello che vogliamo sostenere e poi le pubblicano. E quando voi date fuori il vostro grafico in cui si vede i prezzi che anticipano, si vede salire prima dall'altro, immediatamente il commentatore dirà, eh già, si capisce perché, gli serve e l'hanno pubblicata. Se facevano la stessa ricerca e poi dava risultati diversi, non sarebbe stata pubblicata. E questa è l'attenzione che dovreste fare, vedere di cercare di raggiungere un po' la migliore obiettività. Ma soprattutto, e concludo qui, io vorrei pregare l'associazione dei consumatori, di non inflazionare, visto che parliamo di inflazione tanto, di non inflazionare le statistiche. Perché vi dico che l'abbondanza delle statistiche toglie interesse e valore ad esse stesse. E soprattutto, fate attenzione, che certe statistiche che mostrano troppo quanto sono utili alle tesi di chi le pubblica, sono subito oggetto di critica e subito sono oggetto di, non solo, demolizione. Quando io vedo l'ultimo grafico, non c'è adesso, dei prezzi che anticipano nella vostra rilevazione. E perché sono prezzi che hanno una spiegazione questa, perché cercate di pubblicare i prezzi che hanno maggior frequenza di acquisti. Ma la maggior frequenza di acquisti è quella che è legata soprattutto alle disponibilità di cash. Perché il cash tende ad adeguarsi. E che cosa si sta facendo in periodi di crisi? si innaffia di moneta. Lo fanno tutti i paesi, a cominciare dagli Stati Uniti. Si innaffia di moneta. E allora la frequenza di ciò che è legata al cash, cioè gli acquisti frequenti, quelli che si fanno tutti i giorni, si accrescono. E la causa è quella. Non quella di cui voi potete poi servirvi. Ma voi siete subito oggetto di critica, punteranno l'indice. Eh sì, perché questa statistica a loro serve. Allora io volevo solo richiamarvi. Attenzione, non tirate fuori statistiche che siano troppo spinte sulla tesi che voi sostenete. Perché diventano non credibili a priori. Fatelo attenzione. Io sono un po' rimbambito, oltre che anziano. E quindi dico le cose che mi vengono in mente. Però spero di non aver detto cose che siano inutili in questa sede. Grazie. Grazie Livio. Io sono venuto a questo incontro un po' da cronista per cercare di capire le ragioni della conflittualità perenne fra l'istate e le associazioni di consumatori. E mi sembra di capire che alla fine la ragione è che le associazioni di consumatori vorrebbero avere dei dati sul potere d'acquisto. Che è la combinazione di due cose. L'andamento dei prezzi e l'andamento delle retribuzioni, dei salari. Cioè forse il nodo è un po' in questo anche. Sarebbe interessante effettivamente avere mensilmente anche quanto guadagnano le famiglie italiane. Però non ce l'abbiamo, mi sembra. E volevo sapere se questa mia sensazione è giustificata. Il professor Magnani è stato di una lucidità spaventosa. Quindi non si reputi l'aggettivo che ho usato lo dimentichi. Io sono d'accordo con lei però sinceramente anche se da poco sto vivendo nel mondo dell'associazionismo io non vedo queste esasperazioni. Qualche esasperazione c'è effettivamente ma quando si tende a sensibilizzare le persone sul rischio che corrono e mi riferisco in particolare a un'iniziativa che ha fatto Adi Consum sul furto di identità, ha fatto Adi Consum sul furto di identità sul fishing. Già fatta quattro anni fa, cinque anni fa, ripetuta nel 2008 con una guida per i consumatori. Ho collaborato a stendere quella guida perché era il mio vecchio mestiere. Abbiamo esagerato nel dire che si sono verificati 300.000 furti di identità in Italia. Ecco ma è stato fatto a fin di bene. Noi non ci siamo mai instradati su misure dei prezzi consumo e tutto il resto perché lo fanno benissimo quelli dell'Istat, al massimo usiamo le loro statistiche. Possiamo fare anche altre associazioni, indagini mirate per esempio su fatti o processi che l'Istat non tocca, l'ebook adesso, la commercializzazione, spingere le scuole ad utilizzare delle lavagne multimediali. L'Istat non le fa, le facciamo noi, le facciamo, lo fanno loro. Insomma sono iniziative specifiche che non hanno formato oggetto di indagini da parte dell'Istat, piccoli settori, non settori di più ampia portata come quelli. Concordo con lei comunque, se nella newsletter mettono anche le bufale, è un segnale anche quello di cambiamento e di miglioramento. Io accolgo molto positivamente la critica perché come in tutte le cose c'è una componente indiscutibile di verità. Se poi queste bufale vengono scritte nero su bianco, tanto meglio, ci prenderemo le critiche che ci meritiamo e mi sembra anche giusto. Ci terrei da questo punto di vista a cercare un po' di chiarire il quadro. Le associazioni di consumatori in Italia sono numerosissime, per quanto semi sconosciute, sono numerosissime e si possono dividere in due grandi categorie. Ci sono associazioni di consumatori che sono basate soprattutto sull'attività di tipo giuridico, cioè che fanno una difesa di carattere giuridico e lobbistico degli interessi dei consumatori, quindi appoggiano il consumatore nel momento in cui deve fare una causa a un'azienda per un determinato problema. Oppure cercano di intervenire a livello istituzionale per cercare di combattere le proprie battaglie. Ci sono altre associazioni di consumatori invece che sono prevalenti per esempio nei paesi del nord Europa, le quali basano la propria attività sull'informazione ai consumatori e quindi pubblicano delle riviste, altro consumo è di questo tipo, pubblicano delle riviste in cui vengono fatte delle indagini su determinati argomenti, si fanno test comparativi, cioè si acquistano prodotti sul mercato, si va a fare l'analisi in un laboratorio indipendente di questi prodotti e poi si fa una valutazione del rapporto qualità-prezzo dei prodotti che sono stati presi in considerazione e questo tipo di associazioni di consumatori deve avere necessariamente al proprio interno un personale tecnico. Quindi per esempio altro consumo è costituito da personale che è economisti, cioè laureati in economia e commercio, ingegneri, tecnici dell'alimentazione, medici che hanno una competenza tecnica e quindi cercano di proporre la propria informazione cercando di fornire un'informazione molto pratica che però abbia un contenuto tecnico. Da questo punto di vista noi abbiamo inevitabilmente la tendenza a fare anche noi delle statistiche non per metterci in contrapposizione all'Istat ma perché il nostro scopo rispetto all'Istat per esempio sul versante dei prezzi è molto diverso, cioè come si diceva prima mentre l'Istat ha la tendenza a dover produrre un indice che abbia un'efficacia monetaria noi cerchiamo di produrre dei risultati che diano un'indicazione pratica alle persone sulle proprie scelte di acquisto e quindi è evidente che noi impostiamo le nostre statistiche in un modo diverso, certo è nostro dovere nel momento in cui facciamo delle statistiche a farle con criterio secondo parametri che siano coerenti con i principi scientifici, questo è fuori discussione, se facciamo delle pseudostatistiche allora è bene che ci si punti il dito ed è fuori discussione. Grazie. Io volevo ricordare una cosa a Donato Speroni, il fatto che l'Istat ha cominciato a pubblicare dati sul reddito disponibile reale delle famiglie, si date un indicatore macroeconomico quindi non è che lì possiamo trovare l'andamento del reddito reale dei pensionati o che, però insomma devo dire che ha chiarito alcuni aspetti anche delle percezioni, delle sensazioni di impoverimento che ci sono state da parte dei consumatori, è un indicatore che a questo punto forse dovremmo valorizzare proprio nel contesto in cui si diceva. Ultimissima cosa, devo dire che questo ci tengo perché poi Magnani e Speroni sono due esponenti abbastanza significativi del mondo dei media, almeno di quello specializzato. Negli ultimi anni c'è stata anche una lotta da parte delle associazioni di consumatori, almeno in una certa fase, ed è lì stata a occupare gli spazi dei media, nel senso che noi abbiamo capito che sostanzialmente aumentando l'informazione, spiegando bene e articolando l'informazione avremmo tolto spazio a loro, nel senso che c'era proprio un problema di formattazione della pagina da parte dei redattori economici. A questo punto abbiamo trovato un equilibrio, cioè da un annetto a questa parte esce l'indice dei prezzi dell'Istat, stamattina è uscito, tariffe dell'acqua esplosive, queste sono le agenzie, e nel pomeriggio verso le sei, quando si fa il pastone, quando gli economici fanno il pastone, ci piazzano dentro una valutazione quantitativa dell'aggravio di spese delle famiglie fatte dall'associazione dei consumatori, che a questo punto io ho scoperto essere la spesa media mensile di fonte Istat dai consumi delle famiglie, moltiplicata per l'inflazione, quindi a questo punto abbiamo trovato un equilibrio stabile, nel senso che noi produciamo i dati, vengono commentati e voi entrate in coda a dare un'informazione statistica aggiuntiva. Sì, lei ha centrato il problema, cioè per le associazioni di consumatori sarebbe significativo poter avere qualche indicatore che ci aiuti a capire come la dinamica dei prezzi impatta sulla loro capacità di consumo. È fuori discussione. Grazie. Le statistiche, lo vedo per esperienza, non sono fatte solo di cifre, sono fatte di commenti. Ora, credo che sia anche utile da parte vostra, se pubblicate dei dati, delle cifre, cercare di spiegare qualche cosa lì dentro, non soltanto in base alle obiettivi che avete nel pubblicarle, ma anche sulle limitazioni del significato della statistica stessa. Ripeto, il caso attuale in cui si sta facendo l'inflazione del cash, del contante, per stimolare il consumo, questa è la politica di quasi tutti gli stati del mondo occidentale, è evidente che determina un aumento maggiore dei prezzi là dove c'è più frequenza. Quello che voi avete scelto, la frequenza, come peso per fare le vostre statistiche. Quindi la causa e anche la politica, la crisi attuale è una crisi che aiuta in questa direzione. Questa spiegazione che adesso vi do, che intuisco, che capisco, per vecchia esperienza, la potete tirar fuori voi e allora ne guadagnate in rispetto per le vostre statistiche. Se vi fate anche l'autocritica, se dite anche voi le limitazioni del significato, i limiti del significato delle vostre statistiche. Grazie. Allora, grazie dottor Magnani. Quindi l'orario siamo andati un pochino oltre, però mi sembra che è stato abbastanza, diciamo, dibattuto l'argomento, anche perché è uno degli argomenti più dibattuti in genere. Quindi è stato molto utile. In questa occasione posso anche ricordare un'ultima cosa che apporteremo come differenza nel nuovo indice che noi pubblicheremo a partire da gennaio. Abbiamo quindi una nuova classificazione dei consumi, quindi dei prodotti che vengono acquistati dai consumatori ai livelli più dettagliati, che ci porterà quindi a pubblicare mensilmente un numero doppio di serie di informazioni che facevamo precedentemente. Passeremo da circa 100 errotti raggruppamenti di prodotti fino ai nuovi profili di consumo, che saranno oltre 200. Che cos'è il profilo di consumo? Non è il singolo prodotto che veniva prima individuato come la sigaretta, il sigaro toscano o in genere il calcolatore elettronico, bensì saranno dei profili di consumo che praticamente è quello che ha davanti il consumatore quando deve acquistare una cosa. Allora per esempio il calcolatore non è il calcolatore in genere ma sono i dispositivi portatili da una parte, può essere notebook, iPad e così via, e il calcolatore da tavolo. Quindi sono questi profili di consumo che sono un'informazione più moderna e più aderente a quello che il consumatore si trova di fronte e anche come sostituzione di prodotto uno al posto dell'altro. Quindi pubblicheremo questa informazione a partire maggiore da gennaio e per rispondere anche a caricato che prima aveva accennato alla necessità di certificare le statistiche che noi diamo, cito che è partito a livello europeo e lo stiamo riprendendo noi, anche un quality management della rilevazione sui prezzi al consumo. Che cosa vuol dire? Che questi indici che sono così utilizzati a livello legale, a livello europeo, a livello macroeconomico hanno bisogno di una certificazione della qualità, quindi documentazione del processo di produzione e documentazione degli output soprattutto in modo che sia possibile controllarle la sua qualità e quindi adoperarlo nel modo adeguato. Ringrazio tutti i partecipanti.